Amano la famiglia e gli amici ma vedono il loro futuro lontano dall'Italia. Questo l'identikit dei 381.000 giovani emiliano-romagnoli tracciato dalla regione in una indagine presentata alla giornata universale dei bambini e degli adolescenti. Il 13% di loro è straniero. La disillusione primeggia. Uno su tre è convinto di dover lasciare il paese per costruirsi il proprio futuro mentre la metà si dice indeciso nel farlo. Un'immagine che risulta però positiva nel suo complesso. Quasi tutti considerano l'amicizia un valore fondante per la propria vita anche se ci si tiene prevalentemente in contatto tra amici attraverso chat e social. Il 10% dei giovani fa parte di associazioni di volontariato. Sul fronte salute sono in aumento coloro che presentano disturbi del comportamento alimentare raddoppiati tra il 2012 e il 2014. Diffuso è anche l'uso di sostanze stupefacenti in particolare cannabis ma anche cocaina, allucinogeni, stimolanti e seppure minor parte eroina. Quattro giovani ogni cento sono a rischio di dipendenza da ludopatia. Sul fronte economico vi è un aumento dei minori in condizione di povertà. La regione ha innalzato i fondi per le politiche giovanili portandoli a 600.000 euro all'anno che salgono a 2 milioni nel biennio 2017-2018 grazie a un finanziamento straordinario della fondazione Carisbo.